Tante, però io sono io e sto facendo il mio percorso, ma ognuna delle attrici che sta in Italia che cerca di lavorare, di fare bene il suo mestiere, sta facendo fatica come sto facendo fatica io, perché è un momento comunque difficile per tutti, anche nel nostro lavoro, quindi penso che tutte noi siamo, io non ho nessuna invidia per le donne, magari anche più belle di me, anzi sono felice di vedere la bellezza femminile, ma soprattutto apprezzo il talento femminile e quello maschile, quando ci sono attrici belle, brave, a me piacerebbe addirittura collaborare con loro, fare dei lavori con loro, io non ne ho concorrenti, io sono unica, chi ama Patrizia Pellegrino mi ama, chi non mi conosce non mi conosce, chi mi vuole conoscere ci sarò. Grazie a tutti! 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 giù le case piccole qui con te, sopra i suoi miei che vorrei, sopra una colore siamo noi, dove il sole è un altro, dove vuoi io e te, guardo il mondo da una nuvola, tutto nella ma non città, guardo il mondo da una nuvola, dietro il giorno che se ne va, che l'aria fu la via, senza freni per la fantasia, per l'oliente ancora andare via, io e te. Grazie a tutti. Sul sesso femminile tende appunto a essere... Quindi non lo trovi volgare? Volgare no, un po' forse eccessivo, in certi momenti si è forte, per me non va bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.